si prende la farina con acqua e sale fin tanto che la farina non prende tutta secondo la quantità e si fa questo questo impasto perché il tortello se si fa con le uova viene duro e non si cuoce lì capito ci vuole la pasta che sia tenera che si cuocia sulla piastra io non ho so siccome noi c'è dei periodi che lavoriamo abbastanza che abbiamo i pienoni e per fare tutte le sfoglie ci vuole il tempo e mi dicono compra l'impastatrice no non la voglio perché non mi piace io fino che se posso faccio tutto artigianale quando non posso più non mi piace io no 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 io volentieri ve lo direi ma se comincia a levare i segreti e dopo li copiano tutti mi capite mi capite questo io ve lo direi con tutto il cuore ma se io vi dico questo poi voi li fate rivedere è finito il segreto io non posso capito qual è il segreto e tutti si dopo sono tutti buoni a fare i tortelli e non solo non sono più i nostri i tortelli capito le patate il soffritto e la sfoglia senza uova e la sfoglia senza uova le patate il e la sfoglia senza uova la sfogo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.